capitolo 2 la programmazione neurolinguistica c'è una cosa che più di tutte le altre ci fa capire se qualcuno sa cos'è la pnl non è un insieme di tecniche è un atteggiamento è un atteggiamento che ha a che fare con la curiosità col voler sapere le cose col voler essere capaci di influire sulle cose e voler essere capaci di influirvi in modo che valga la pena di farlo tutto si può cambiare richard bandler usare il cervello per cambiare pagina 137 la pnl programmazione neurolinguistica è una disciplina che si occupa di comunicazione crescita personale e cambiamento il nome rimanda alla connessione esistente tra i processi neurologici il linguaggio e i comportamenti appresi con l'esperienza la pnl è stata sviluppata da richard bandler e john grinder negli anni 70 in california il primo era uno studente di matematica particolarmente interessato all'informatica presso la university of california il secondo un professore associato di linguistica presso la stessa università bandler e grinder incoraggiati da gregory bateson approfondirono le strategie terapeutiche di virginia satyr fondatrice della terapia familiare di fritz peirce padre della terapia gestalt e di milton erickson uno dei più famosi medici ipnotisti del mondo le loro ricerche portarono alla conclusione che studiando e analizzando attentamente persone considerate geniali nel proprio campo è possibile per chiunque copiare gli elementi fondamentali del loro modus operandi e ottenere i medesimi risultati è questo il modellamento dell'eccellenza umana i co fondatori della pnl si resero conto che il modo in cui pensiamo alle cose ha una struttura che influenza la nostra esperienza soggettiva del mondo e chiarirono la distinzione tra il territorio il mondo vero e proprio e la mappa interiore l'esperienza che di quel mondo facciamo questa distinzione si sintetizza spesso con l'affermazione la mappa non è il territorio la collaborazione tra bandler e grinder giunse al termine alla fine degli anni 70 quando i due proseguirono ciascuno per proprio conto a contribuire attivamente al mondo della pnl richard bandler ha portato avanti ciò che oggi definiamo la pnl classica che lavora essenzialmente su due fronti la struttura del linguaggio e l'ipnosi e tra i spunto principalmente dalla linguistica dalla gestalt e dalla teoria degli insiemi bandler ha creato una serie di modelli registrati tra cui il design human engineering e il persuasion engineering ha scritto moltissimi libri e tiene regolarmente seminari di formazione di pnl e ipnosi in tutto il mondo attualmente bandler collabora principalmente tra gli altri con john laval owen fitzpatrick e alessio roberti john grinder con judith de losier e altri ha sviluppato la cosiddetta pnl new code una disciplina molto più esperienziale rispetto alla pnl classica la pnl new code affonda le proprie radici nella teoria dell'informazione e delle opere di carlos castaneda e sono risultati molti nuovi modelli schemi e tecniche attualmente grinder collabora principalmente tra gli altri con carmen bostick st clair un altro studente della university of california robert hiltz tra i primi a impegnarsi al fianco di bandler e grinder è stato tra i più vigorosi innovatori della pnl ha ideato molti schemi e modelli per il cambiamento e ha ampliato considerevolmente la quantità di materiale pubblicato sulla disciplina inoltre ha dato vita al filone della pnl denominato pnl sistemica che presenta un approccio più olistico e complesso rispetto alle due correnti principali della pnl mentre avanziamo nel ventunesimo secolo la pnl continua evolversi ogni anno un numero sempre crescente di professionisti aggiunge nuovi modelli e tecniche in questi decenni la programmazione neurolinguistica ha prodotto alcuni degli schemi più potenti mai creati per facilitare il cambiamento nelle persone semplicemente amplificando i comportamenti facilitanti e diminuendo quelli indesiderati attualmente oltre che come forma di terapia non riconosciuta dalla comunità scientifica è usata in numerosi settori tra cui comunicazione educazione apprendimento negoziazione leadership medicina vendita team building la pnl è la disciplina dalle mille definizioni che rischiano di farci perdere in un labirinto di significati senza avere un'idea chiara della materia a scopo di spiegazione e semplificazione potremmo dire che la programmazione neurolinguistica è uno strumento dalla duplice valenza ovvero di conoscenza di cambiamento i due lati della medaglia si completano e si integrano per formare una materia che fonde teoria e pratica pensiero e azione la programmazione neurolinguistica è un modello un paradigma un modo di guardare e interpretare se stessi e gli altri la pnl in quest'ottica si occupa essenzialmente dei processi attraverso cui creiamo una rappresentazione interiore la nostra esperienza del mondo esterno come strumento di conoscenza studia l'esperienza soggettiva dato che ognuno di noi vive ed elabora esperienze diverse conoscere la nostra struttura e quella delle persone che ci stanno intorno ci permette di capire come interpretiamo il mondo di comprendere insomma le nostre mappe mentali la pnl è il processo attraverso cui scoprire come pensiamo come comunichiamo e come agiamo così da poter cominciare a farlo in modo più fluido richard bundler owen fitzpatrick pnl e libertà pagina 47 la pnl è dunque un approccio all'esperienza umana fondato sulla convinzione che non ci sia un unico modo di fare esperienza ma tanti modi quanti sono gli uomini e che questi modi abbiano una struttura analizzabile scomponibile e in qualche modo leggibile la pnl è un'opportunità per studiare la soggettività qualcosa che a scuola mi veniva descritta come orribile mi spiegavano infatti che la vera scienza considera le cose oggettivamente ciò nonostante mi sono accordo che quella che più influiva sul mio comportamento era la mia esperienza soggettiva e di conseguenza mi sono messo in mente di scoprire qualcosa sul suo funzionamento e sul modo in cui esercita il suo flusso sugli altri richard bundler usare il cervello per cambiare pagina 14 questa è la base l'approccio alla pnl potrebbe terminare qui ed essere completo in sé ma perderebbe la sua componente più interessante ed efficace poiché la pnl non è solo un modello ma anche un metodo e una tecnologia in questo senso è uno strumento di cambiamento la pnl rappresenta un certo modo di considerare l'apprendimento umano sebbene molti psicologi e assistenti sociali utilizzino la pnl per fare quella che si chiamano terapia personalmente credo che sia più appropriato descrivere la pnl come un processo educativo fondamentalmente stiamo elaborando dei modi per insegnare alle persone a usare il proprio cervello la maggior parte degli individui non utilizza attivamente e deliberatamente il proprio cervello il cervello è come una macchina alla quale manchi un interruttore con la posizione di spento se non gli si dà qualcosa da fare non fa altro che continuare a girare e alla fine si annoia se mettete una persona in una stanza di deprivazione sensoriale dove non c'è la possibilità di avere esperienze esterne essa inizierà a generare esperienze interne se il cervello se ne sta lì senza fare niente comincerà a fare qualcosa e non pare che gli importi molto che cosa a voi può importare ma a lui no richard bandler usare il cervello per cambiare pagina 13